Over the Top MMG, Norton Miller, Master di Azzurra e Pupella Lewis che completa l'elenco dei cavalli che sono sotto la doppia cifra. Peraltro c'è da dire che sin qui l'andamento del gioco su questa corsa è piuttosto complicata, si rivela piuttosto parco, piuttosto contenuto, complessivamente non si è ancora arrivata ai 10.000 euro, quindi evidentemente una corsa che è stata un po' presa non particolarmente a benvolere dagli scommettitori, probabilmente anche piuttosto complicata da decifrare, ma va in partenza la terza corsa di Palermo. Terza corsa di Palermo, indigene di categoria G sulla breve distanza, partenza in quest'istante, sono in 13 al Viano, ancora il numero 13 Lampo di Re al gioco, favorita ha chiuso Notte di Luna Piena numero 2 che va ad assumere anche l'iniziativa nei confronti di Master d'Azzurra che sin qui ha fatto il bravo, per linee esterne prova a trovare posizione Motoritz, ma non riesce a trovarla, almeno fra le prime due posizioni, mentre c'è l'errore e la squalifica del numero 11 di Pupella Lewis. Primi 400 metri in 29 per la capofila Notte di Luna Piena che continua a guidare nei confronti di Master d'Azzurra, per linee esterne è rimasto Motoritz, lungo lo steccato seguono il 5 di Matrix Mar e il 9 di Lugola Lung, mentre per linee esterne prova a farsi avanti over the top MMG che ha preso la scia di Motoritz, mentre prova l'avanzata in terza ruota il numero 1 di Norton Miller. I cavalli stanno percorrendo la seconda curva, seconda curva che vede sempre Notte di Luna Piena in avanti, incalzata adesso da Norton Miller e seguita da Master d'Azzurra. Andiamo un po' a vedere il primo chilometro di Notte di Luna Piena, primo chilometro in linea con la categoria, attorno all'1.16 con Norton Miller che premia all'esterno, Master d'Azzurra che guata all'interno, però adesso si è spostato a prendere la scia di Norton Miller e lungo la corda ne approfitta prontamente Giovanni Marino con Matrix Mar, non riesce a progredire davvero più di tanto over the top MMG che davvero sta mostrando una condizione che definire deficitaria è già un eufemismo. E così, la voce è tutto sommato del campo, Notte di Luna Piena, reduce da periodo molto negativo, prova a portarla a casa, ci prova Norton Miller a rimpedirglielo fino in fondo, ma Notte di Luna Piena si salva e viene a vincere molto bene nei confronti di Norton Miller. Alla fine una prestazione dignitosa per Notte di Luna Piena che è tornata a scendere sotto l'1.16, comunque ci è andata vicino a quota di 3.74, la guida è di Giacomo Sole, il training è di Salvatore e la gala, i colori sono quelli della scuderia Jaros, cara appunto all'Avvocato Sole, buona prestazione anche di Norton Miller che prende il secondo posto, mentre lungo la corda probabilmente Nugola Lunga è riuscita a salvarsi da Matrix Mar. Quindi l'ordine d'arrivo naturalmente ufficioso di questa terza corsa di Palermo è 2 al primo posto, 1 al secondo posto e 9 al terzo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.